Oggi che è domenica, invece di cucinare e di riposarsi un attimino, speriamo che iniziamo a sistemare giardino. In realtà abbiamo già i storieri, abbiamo già fatto la terrazza, passiamo i vasi, spaziamo, usiamo le mattonelle, mentre faccio questo Barbara muove la terra dei vasi, aggiungiamo tutto il riccio e il coccine. Grazie per la visione! Ragazzi, salute! Un saluto a tutti quanti! Ciao ragazzi!